Buonasera e benvenuti al Tg Sicilia, le principali notizie di oggi. Naro nell'Agrigentino è sconvolta per la morte di due donne romene. In caserma i carabinieri proseguono gli interrogatori di alcuni connazionali delle vittime e di diverse persone del paese. Catania ricorda Pippo Fava, il giornalista ucciso dalla mafia 40 anni fa. Il capo dello Stato ucciso perché è capace di scuotere le coscienze. Il procuratore ardita al Tg Sicilia non bassa la semplice denuncia, occorre un progetto per la città. Due casi di legionella a Trapani, colpiti due turisti in vacanza in città. La vicenda risale al periodo natalizio. I due, dopo il ricovero per i controlli, sono stati già dimessi. Influenza killer si alza il livello di attenzione. Si tratta di un virus altamente contagioso, il peggiore degli ultimi 15 anni. Partiti saldi invernali in Sicilia, strade velo shopping affollate tra chi acquista e chi guarda, sperando in ulteriori ribassi. A Catania la Marcia della Pace, promossa dall'Arcidiocesi di Catania. I partecipanti, tra cui anche l'imam della Moschia della Misericordia, sono partiti dalla chiesa di Sant'Agata al Borgo e hanno sfilato lungo la Vietnea fino alla cattedrale. Calcio mercato sono già cinque gli acquisti del Catane. Il club rossazzurro ha ufficializzato l'arrivo di Cirelli. In giornata hanno svolto le visite mediche anche Cianci, Celli e Costantini. E parliamo del giallo a Naro, nell'Agrigentino, nella locale caserma dei Carabinieri. Gli inquirenti hanno interrogato per ore due rumeni, ma anche alcune persone del paese conoscenti. Ve le due donne trovate morte all'alba nelle loro rispettive abitazioni. Davide Sarto. Non riesce a darsi pace Marcella, la figlia di Maria Rus, una delle due donne rumene, rinvenute morte all'alba nella sua casa di Cortile Avenia, nel centro storico di Naro, in provincia di Agrigento. La 54enne è stata rinvenuta semicarbonizzata ed è improbabile ritenere che sia stata avvolta accidentalmente dalle fiamme. La donna, vedova da alcuni anni, era riversa a terra, rivolta verso l'uscita della sua abitazione. Visto il corpo della mia povera suocera, è impossibile che si bruciava così. È troppo, le ostioni sono molto, alla pelle si vedono le ossa, è impossibile. In via Vinci, invece, poco distante da Cortile Avenia, è stato rinvenuto in una chiazza di sangue il corpo di Zelia Zarniscu, 58 anni. La donna è stata in modo evidente colpita mortalmente con degli oggetti contundenti sul corpo, anche ferite da arma da taglio. La sua abitazione è stata messa a soquadro. Chi ha assistito alla scena parla di una feroce inaudita, sconvolti i vicini di casa. Non davano disturbo a nessuno, se vedevano salutavano, non davano nessuno disturbo. Questo che hanno fatto questa cosa, sono per me dei maiali, dei mostri. Sul posto si è recato il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella. Nulla da dire per adesso, stiamo lavorando, stiamo interrogando, speriamo di arrivare a risolvere questo caso in tempi non lunghissimi. Tutte le ipotesi sono... No, non sono tante. Per l'intera giornata gli inquirenti hanno ascoltato due rumeni, ma anche alcune persone di Naro che conoscevano e frequentavano le due donne molto amiche tra di loro. E c'è una notizia arrivata dalla nostra redazione. Un romeno di 24 anni è stato indagato per il duplice omicidio delle due connazionali cinquantenni avvenuto nella notte a Naro. Al giovane viene contestato anche il vilipendio di cadavere. Il 24enne è uno dei due sospettati e interrogati dai carabinieri. E oggi a Catania la commemorazione dell'omicidio di Pippo Fava, 40 anni dopo. Nella via intitolata al giornalista trucidato, momenti di commozione e intensità con gli studenti che hanno intitolato un canto. Per il figlio Claudio sono state importanti le parole del presidente Mattarella. Roberta Lunghi. Risuonano e colpiscono forte musica e parole cantate dai bambini dell'Istituto Compressivo Cesare Battisti di Catania, proprio sotto la lapide che ricorda l'assassinio di Giuseppe Fava, 40 anni fa. Nella commemorazione di oggi, prima il corteo dei siciliani giovani partito da Piazza Roma, poi il rituale dei fiori semplici deposti dalla famiglia accanto alla lapide, un mazzo altrettanto essenziale del comune di Catania, che insieme alla Fondazione Fava e per volontà e in memoria della sorella di Pippo Fava, Elena, scomparsa nel 2015, hanno deciso di donare due strumenti musicali a due istituti catanesi. E nel segno delle parole cantate, così come quelle che soffiano nel vento della magica blowing in the wind, altra esecuzione studentesca, anche Claudio Fava si è soffermato. Oggi di parole nei confronti di suo padre ne sono state dette tante, dalle istituzioni, qui dai ragazzini, dalla gente comune, che effetto le fanno tante parole. Ho un profondo rifiuto per tutte le parole con le maiuscole, la parola eroe, la parola martire. Mi sembra che siano parole finte dietro le quali ci nascondiamo noi vivi. Ogni tanto sento dei ricordi un po' intolleranti, per esempio, su un uomo come Giuseppe Fava. Io penso che la tolleranza, cioè la capacità di essere uomo tra tanti, di ascoltare tutti, di avere curiosità e rispetto per le vite di tutti, sia l'eredità sua che ci portiamo dietro. Un dono per lui, le parole di Sergio Mattarella. Io sono molto grato al Presidente Mattarella perché queste parole arrivano dopo 40 anni, per la prima volta, per la prima volta un Presidente della Repubblica ricorda in modo non rituale, non liturgico Giuseppe Fava, ricorda il suo modo di fare giornalista. Una commemorazione a cifra tonda che ha assunto particolare valore simbolico. Ha un valore simbolico, ma in realtà ogni anno è importante, questo è solo a cifra tonda. Il 5 gennaio vogliamo che rimanga sempre nel cuore, nell'impegno di tutti i catanesi, un appuntamento in cui non mancare. Per i siciliani giovani, presenti con la commozione e l'intensità di sempre, il grido resta lo stesso. A che serve vivere se non si ha il coraggio di lottare? Fu un attacco frontale alla cultura antimafia, così il procuratore Sebastiano Ardita ricorda il delitto Fava. Oggi denunciare non basta più, sentiamo. Un delitto che ancora fa rumore, lo ricorda così il giudice Sebastiano Ardita, procuratore del Tribunale di Catania. Ricordo un po' lo stupore anche per la gravità dell'evento, perché comunque si compresa che era un atto che rompeva a Catania un momento di equilibrio che c'era stato per molto tempo. Era un attacco frontale alla cultura, alla cultura antimafia, diciamo alle istituzioni, anche se la vittima era un giornalista. 40 anni fa la mafia a Catania ha dei poveracci e dei dominaddio, come l'aveva definita Fava. Oggi ha cambiato pelle. La nuova mafia, la mafia nel rapporto che esiste fra criminalità e potere, che si è diffusa e che è diventato un modello vincente, meno aggredibile proprio per le sue grandi coperture e per la sua capacità di non attaccare frontalmente lo Stato, ma di per certi versi blandire la sua azione. Lotta alla mafia che passa anche da un impegno collettivo. Denunciare non basta più, occorrono nuovi modelli di verifica dell'impegno pubblico, dell'impegno privato, ma forse occorre un progetto per la città, un progetto di solidarietà per la città. Acqua inquinata a Trapani e allarme dopo i due casi vi legge nella scoperti in città. Una vicenda che risale al periodo natalizio e che ha avuto come protagonisti due turisti in vacanza in città. I due dopo il ricovero per i controlli sono già stati dimessi. Laura Spanò. Erano stati ricoverati al Sant'Antonio Abbate di Trapani due turisti italiani che, ospiti in un hotel del centro storico del Capologo, avevano accusato i sintomi della legionella. Sintomatologia poi confermata dalle analisi effettuate presso il nosocomio. Entrambi, al momento del ricovero, la vicenda pare risalda al periodo di Natale, manifestavano problemi respiratori. Era scattato da subito il protocollo previsto in questi casi. L'ospedale Sant'Antonio Abbate ha informato l'ASPE che ha avviato un'azione di monitoraggio eseguendo un controllo presso la struttura ricettiva dove alloggiavano i due turisti. Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, pure allertato della vicenda, aveva emesso un'ordinanza a fine dicembre di inibizione all'utilizzo delle camere della struttura ricettiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza per tutelare la salute degli ospiti. Gli ulteriori esami effettuati nella struttura ricettiva dei tecnici dell'ASPE avevano infatti accertato la presenza del batterio in particolare in quattro camere dislocate su tre differenti piani. Due al primo, un al secondo, un'altra al terzo piano. L'ordinanza comunque rimane in vigore fino a quando non verranno adottati da parte del titolare dell'albergo tutti gli accorgimenti indicati dall'ASPE. Resta da accertare come i due visitatori abbiano contratto la patologia. La malattia si trasmette con l'inalazione di piccole particelle di acqua contaminata. Il batterio si diffonde poi all'interno dell'organismo fino ad arrivare ai polmoni. La trasmissione della legionella avviene tramite rubinetti, fontane, serbatoi, riscaldatori d'acqua e grandi impianti idrici. Sulla vicenda è intervenuto anche il direttore del Dipartimento a Prevenzione della Salute dell'ASPE, Franco Di Gregorio. È un fenomeno, dice, che richiede l'attenzione di tutti gli enti proposti ai controlli. Bisogna stare attenti soprattutto a quelle strutture che si approvvigionano di acqua dei privati. Influenza killer, si alza il livello di attenzione. Si tratta di un'influenza altamente contagiosa e virulenta. La peggiore degli ultimi 15 anni, ma gli esperti invitano alla cautela per evitare allarmismi. Tonino De Mano. Non è arrivato ancora al picco, previsto tra fine mese ed inizio febbraio, ma è già un incubo. Anche perché sta ammietendo vittime per lo più giovani o comunque senza particolari patologie. Dopo Aurora, sette anni di Palermo e Lidia, 25 anni, di Chiara Montegulfi, la lista si allunga con le morti, questa volta di due uomini di mezza età, avvenute a poca distanza l'una dall'altra, al Policlinico di Catania. In questi ultimi casi si tratta del temuto ceppo H1N1 che gli infettivologi definiscono influenza suina, tornata prepotentemente alla ribalta dopo le 250.000 vittime fatte nel mondo nel 2009. Senza voler creare allarmismi, si tratta di un'epidemia altamente contagiosa e che, come detto, colpisce all'improvviso persone sane. È il caso di Giovanni, 59 anni, che aveva festeggiato il Natale con parenti ed amici in piazza a Valverde, come ci conferma il sindaco Domenico Caggeggi. Abbiamo accesso il falò insieme, era felice di questo falò. Fra l'altro faceva parte anche della corale della chiesa. Un uomo veramente ha un papà speciale, amico di tutti. Tosse, febbre alta, problemi respiratori, e ricovero prima al Canizzaro e poi al Policlinico di Catania, dove è morto in poche ore. Il sindaco di Valverde ribadisce però che non c'è alcun allarme febbre suina. Non c'è nessun allarme. È un'influenza che tocca tutta l'Italia. Cinque tipi di influenza. Certo, l'allarmismo c'è, però non c'è un problema a Valverde, perché oggi sono problemi di spazzatura. Non c'è nessun allarme sanitario. Si tratta comunque di un'influenza altamente contagiosa. La peggiore degli ultimi 15 anni, hanno spiegato gli infettivologi, che hanno puntato il dito anche sulla scarsa campagna vaccinale di quest'anno. È consigliato l'uso di antivirali, mentre è da escludere una terapia antibiotica. I comuni medicinali da banco, assunti per il raffreddore e l'influenza stagionale, possono aiutare ad alleviare dolori e febbre. E ora una rettifica. Nell'edizione di pranzo del nostro telegiornale per errore è stata indicata tra le persone morte per influenza anche la signora Alfina Greco di Valverde. La signora in questione, va precisato, aveva contratto il virus H1N1, ma si era poi negativizzata. Il decesso è quindi avvenuto per altre cause. Politica in subbuio al comune di Palermo. La RAP, l'azienda che si occupa della raccolta rifiuti, litiga con il sindaco Lagalla. Lega e Forza Italia punta nel dito contro Fratelli d'Italia per la dispendiosa organizzazione del Capodanno con Elodie, 450 mila euro. Marco Gullà. E ormai battaglia aperta tra la RAP e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Al presidente della partecipata che si occupa della raccolta rifiuti nel capologo siciliano, non sono affatto piaciute le dichiarazioni del sindaco sull'emergenza spazzatura in città. Lagalla aveva detto o la RAP trova delle soluzioni o provvederemo in estate in altro modo. La risposta dell'azienda e dei sindacati è lo stop ai doppi turni dei lavoratori. In questo modo la città non potrà chi soccombere sotto i cumuli di immondizia che già da giorni la soffocano a causa degli arretrati nel periodo natalizio. Giuseppe Todaro, presidente della RAP sulla tavica emergenza dell'azienda, ha detto il primo problema è il personale. Abbiamo un'età media altissima dei dipendenti che rende il 30% praticamente indisponibile ai lavori pesanti. Mandiamo 70 lavoratori all'anno in pensione. Tra il sindaco e il presidente Todaro ci sarà un incontro nelle prossime ore. Si cercherà di ricucire per evitare un'emergenza nell'emergenza. Anche perché da oggi molti dipendenti potrebbero andare in ferie sfruttando il ponte dell'Epifania. Dissidi interni anche nella politica di Palazzo delle Aquile. Dopo Forza Italia anche la Lega attacca l'amministrazione comunale sul concerto di Capodanno in piazza Politiama con l'artista Elodie. La maggioranza di centrodestra che governa la città continua a sgretolarsi. Questa volta sull'evento Cardine di fine anno voluto fortemente dall'assessore meloniano alla cultura Gian Piero Cannella che è anche segretario regionale di Fratelli d'Italia. A termine del tavolo tecnico tra comune e RAP che si è tenuto oggi si è preso atto delle carenze dell'azienda che hanno portato a un'emergenza nella raccolta dei rifiuti in città. La RAP si impegnerà a una razionalizzazione del personale per recuperare l'arretrato che si è accumulato sulle strade e ovviare al mancato rinnovo degli accordi di secondo livello determinato dalla intervenuta astensione sindacale. E cambiamo argomento saldi al via in quasi tutta Italia strade velo shopping affollate anche in Sicilia tra chi acquista e chi guarda in vista di ulteriori ribassi. Eva Spampinato Sì shopping da saldi Guardiamo per i saldi? Sì stavo dando un'occhiata Il primo giorno di saldi in Sicilia parte bene almeno nelle intenzioni Ho appena fida di vacanza quindi magari il budget non è altissimo Però l'intenzione d'acquisto c'è? Sì sicuramente perché appunto si è aspettato fino adesso Secondo le stime di ConfCommercio saranno poco più di 800.000 in Sicilia le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 120 euro per un giro d'affari di circa 250 milioni di euro Ha aspettato il primo giorno? Sì ho aspettato oggi anche perché sono libera e quindi ne ho approfittato Già è andata diretta sapeva cosa acquistare? Sì sì sapevo cosa mi serviva e quindi ho preso quello che mi serviva Aveva un budget? No non avevo un budget Che cosa si acquista durante i saldi? Le cose che servono che non si comprano a prezzo intero jeans, pantaloni, maglioni scarpe sì principalmente questo E abbigliamento comunque scarpe e maglioni pantaloni queste cose abbigliamento In Dietnea a Catania si passa da un negozio all'altro alla ricerca dell'occasione giusta Partono i saldi come sta andando? Oggi è il primo giorno ufficiale quindi vedremo chiaramente le persone sono sempre alla ricerca di sconti sempre più più alti Secondo me state aspettando le vostre mogli che fanno shopping? Sì non ha sbagliato noi siamo dalla provincia di Ragusa di Acata Siete venuti apposta per i saldi? Sì soprattutto veniamo per i saldi I saldi proseguiranno fino al 15 marzo A cinque mesi dei tragici incendi del 24 e 25 luglio in cui in Sicilia sono morte sei persone non c'è ancora di fatto nessun ristoro per le famiglie che hanno perso la casa o l'azienda a Mondello abbiamo incontrato una donna a cui il fuoco ha interamente distrutto l'abitazione Marco Gullà Negli incendi del 24 e 25 luglio scorsi a Palermo le loro case le aziende sono andate in fumo anni di sacrificio di ricordi tutto distrutto dalle fiamme che hanno interessato molte zone di Palermo e provincia sono vive per miracolo Cristiana e Bonetta a distanza di mesi però il ricordo di quella notte è ancora vivo Questa era la mia casa una casa dove abbiamo abitato per 32 anni fino a quel terribile 24 luglio la notte del 24 luglio alle 2 di notte il nostro vicino di casa ci ha svegliato ci ha avvertito che le fiamme erano arrivate molto vicine alle nostre case e ci ha esortato a scappare immediatamente noi abbiamo preso pochissime cose veramente il biberon di mio figlio di un anno i pannolini e siamo scappati io mio figlio di un anno mio padre di 83 anni e mia madre La beffa è che dopo mesi da quei tragici giorni nulla è cambiato nessun ristoro solo promesse e nulla più nella finanziaria regionale nonostante la protezione civile abbia fatto una stima dei danni che ammonterebbero a circa 150 milioni di euro non c'è tanto spazio per le cosiddette vittime degli incendi Allora noi chiediamo innanzitutto dobbiamo guardare al futuro quindi chiediamo prevenzione vogliamo risposte vogliamo assolutamente che i nostri boschi e le nostre zone verdi siano presidiate che ci sia un monitoraggio del clima perché c'era molto caldo da una decina di giorni in Sicilia ed era assolutamente prevedibile ciò che è accaduto e vogliamo le pulizie i forestali le pulizie dei parchi delle strade la città metropolitana cioè qua le amministrazioni devono intervenire non è pensabile che il territorio sia così letteralmente abbandonato I doni per i piccoli pazienti dell'ospedale civico di Palermo sono stati rubati fra i regali anche 10 tablet alcune bilance pesa persone e vari oggetti personali a renderlo noto è il segretario del nursing Palermo Aurelio Guerriero l'ondata di criminalità è giunta anche in ospedale non ha risparmiato nemmeno i doni per i bambini oncologici A Catania la marcia della pace promossa dall'Arcidiocesi di Catania in collaborazione con diverse realtà associative e movimenti del territorio Emanuela Corsi Una marcia silenziosa per sensibilizzare e mobilitare il mondo cattolico e i cittadini affinché siano autentici architetti e artigiani di pace e di fraternità E' l'obiettivo dell'iniziativa promossa dall'Arcidiocesi di Catania in collaborazione con diverse realtà associative e movimenti del territorio e guidata dall'arcivescovo Luigi Renna e dall'imam della Moschea della Misericordia Keitab della Fid Oggi è una giornata importante per la nostra città che si stimola il suo impegno per la pace una giornata importante il nostro augurio che la pace regna nel mondo e che si metta a fine a questi massacri che stiamo assistendo ogni giorno in tutte le parti partendo dalla Palestina a Gaza in Ucraina e in altri posti i partecipanti si sono radunati nel pomeriggio davanti alla chiesa Sant'Agata al Borgo da lì hanno sfilato con dei cartelloni che riportano i nomi dei paesi in guerra lungo la Vietnea l'evento è ispirato dal messaggio di Papa Francesco per la 57esima giornata mondiale della pace dal titolo per la pace non basta l'intelligenza artificiale occorre umanità e responsabilità quest'anno il messaggio è intelligenza artificiale e pace perché questo nuovo confine della tecnologia tante volte rischia di essere dimenticato ma da esso dipende tanto dell'umanità dipenderanno le guerre ma dipendono anche tante scelte di esclusione di alcuni popoli tanti modi con cui si controlla la democrazia in alcune nazioni per cui il Papa ha voluto puntare i fari per così dire richiamare la nostra attenzione su quello che sta avvenendo nell'ambito della ricerca sull'intelligenza artificiale e la sua applicazione tecnica a tutto ciò che riguarda la vita dei nostri paesi non esclusa appunto la soluzione dei conflitti o la vita democratica di un paese la manifestazione per la pace si è conclusa in piazza Duomo davanti alla cattedrale ci fermiamo per una pausa torniamo tra poco non mancate bentornati al TG Sicilia mercato con i botti per il Catania ufficializzato nel pomeriggio l'arrivo di Cicerelli ma hanno svolto le visite mediche anche Cianci Celli e Costantino Francesco Triolo il Catania batte un colpo anzi quattro società rossa-azzura scatenata sul mercato proprio alla vigilia della ripresa del campionato dopo l'ufficializzazione del ritorno in Anna Welbeck avvenuta ieri oggi pomeriggio è arrivata l'ufficialità anche dell'acquisto dell'attaccante Emanuele Cicerelli classe 94 esterno offensivo che ha collezionato complessivamente 142 presenze in Serie B con 7 reti e 9 assist con le maglie della Salernitana conquistando in granata la promozionina nel 2021 e quella del Foggia club in cui si è formato calcisticamente del Frosinone e della Regina per lui maglia numero 30 Luca Relli ha avuto in modo di vederlo già all'opera in alcuni allenamenti ma le mosse dei rossazzurri non si fermano qui e sono attesi a breve i comunicati degli ingaggi di altri tre rinforzi il primo è l'attaccante Pietro Cianci classe 96 prima parte della stagione a Taranto che porta in dote un bottino di quasi 300 gare da professionista ed una sessantina di reti ma soprattutto carisma ed esperienza altro arrivo quello di Alessandro Celli difensore un jolly che Luca Relli conosce bene per averlo allenato alla Ternana e proprio dalla società Umbra arriverà a titolo definitivo con un bonus in caso di promozione in Bidel Catania entrambi hanno già svolto le visite mediche quindi il loro ingaggio può essere considerato solo una formalità così come quello di Rocco Costantino che anche lui ha già svolto le visite mediche 33 anni ultimi due campionati e mezzo al Monterosi con 30 reti all'attivo in campionato e il classico bomber di categoria tre innesti milati che vanno a rinforzare alcuni reparti dove il Catania nella prima parte della stagione ha sofferto soprattutto davanti l'obiettivo è provare ad averli a disposizione già dalla trasferta di domenica a Crotone sulla gara invece Luca Relli è stato chiaro e si attende dalla sua squadra di dare continuità dopo il successo di Benevento prima della sosta noi quello che abbiamo bisogno in questo momento è di fare un altro risultato positivo di andare a Crotone col piglio giusto perché la partita è complicata perché troviamo una squadra che ci ha già battuto alla prima giornata di campionato ci ha tirato il collo fino al 120esimo nella partita di Coppa Italia avranno il dente avvelenato per quell'eliminazione avranno il dente avvelenato per l'ultima sconfitta in casa con l'Avellino e per questa edizione è tutto grazie per averci seguito e buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti